Bentornati amici delle bome di Vlad sul nostro canale YouTube per la nostra rubrica il calcio mercato con LBDV sempre mia compagnia in attesa di ritorno del nostro carissimo Conte Vlad partiamo subito con un'indiscrezione di mercato che non riguarda calciatori bensì gli allenatori perché la Roma ieri ha perso uscita dalla Coppa Italia contro lo Spezia in questo momento la società starebbe facendo delle valutazioni per quanto riguarda Paolo Fonseca non è da escludere ovviamente una sua permanenza però il club giallorosso nelle prossime ore incontrerà il tecnico anche per cercare di capire e fare le proprie valutazioni su come gestire la vicenda se lasciar partire Fonseca se quindi esonerarlo o se trattenerlo ancora fino al termine della stagione per il momento si stanno valutando due opzioni per quanto riguarda il profilo di traghettatore la prima è quella di Daniele De Rossi che però non avrebbe dato disponibilità per rimanere come traghettatore sulla panchina della Roma altro nome invece è quello di Maurizio Sarri un nome che la Roma cerca da tempo e anche lui ovviamente non non gradirebbe il ruolo da traghettatore che la Roma vorrebbe proporgli quindi in questo momento è defilata anche l'idea Spalletti quindi un ulteriore ritorno di Spalletti e i nomi che la Roma sta valutando sono questi due è da capire quindi se Fonseca rimarrà in giallorosso o se piuttosto ci sarà un suo sostituto nelle prossime ore ci sarà quindi questo incontro tra Roma e il tecnico e poi verranno prese le giuste valutazioni. Prima di continuare con le notizie di mercato vi voglio ricordare che questa sera alle 19 saremo in live su Twitch per parlare di mercato soprattutto in anteprima in pre partita della Supercoppa tra Juventus e Napoli ci vediamo stasera su Twitch vi ricordo il link del canale è in descrizione seguiteci e attivate le notifiche per rimanere aggiornati su quando inizierà la live passando invece ad un'altra notizia ieri c'è stata la live del calcio nel mercato che è andata in diretta su Facebook, su Youtube e anche su Twitch e l'ospite Cardillo ha spiegato in live che Napoli e Milano sono le squadre più interessate a Junior Firpo del Barcellona. Il Barca come sapete ha già aperto al prestito però al momento c'è una distanza per quanto riguarda le cifre tra Milano e Barcellona il Napoli è concretamente interessato al ragazzo vuole chiudere l'operazione ma prima dovrà liberarsi degli esuberi passando invece adesso in casa Inter è ancora da risolvere il caso Eriksen addirittura si parla di un possibile scambio con l'Arsenal il quale deve liberarsi di Torreira nel mirino della Fiorentina ma anche del Torino però la Fiorentina è quella più avanzata e si ipotizza un possibile scambio di prestiti tra le due società con l'Inter che deve liberarsi di Eriksen l'Arsenal deve liberarsi di Torreira e quindi è possibile che le due società, le due intenzioni si incontrino e possa nascere un possibile scambio di prestiti con Christian Eriksen che andrebbe verso Londra mentre Torreira verso Milano. Rimanendo in casa Arsenal però ritornando questa volta in Italia Sokratis sarebbe finito nel mirino del Genoa un ritorno di fiamma per il club rosso-blu che vorrebbe chiudere questa operazione importante per la difesa considerando soprattutto che è un giocatore dalla grande esperienza in uscita anche lui dall'Arsenal potrebbe essere un'ottima operazione che il Genoa sta valutando soprattutto con l'Arsenal se riesce a trovare un'intesa per chiudere, per iniziare e quindi poi chiudere la trattativa. Adesso invece il Parma deve trovare un'alternativa a Benatia perché l'Alduail ha deciso di non liberare il calciatore quindi il Parma continua a valutare i nomi per la difesa resta ancora in corsa per Thodibaut del Benfica però ha valutato anche alcuni nomi italiani e non in particolar modo Rugani che in questo momento in prestito in Francia e potrebbe però ritornare in prestito dalla Rennes mentre l'altro nome è quello di Federico Fazio che è in uscita dalla Roma quindi il Parma cerca comunque un centrale importante per la difesa e proverà a chiudere per un qualsiasi nome nelle prossime ore e nei prossimi giorni fino al termine del mercato. C'è una linea che invece collega Cagliari e Torino perché il Torino starebbe cercando un attaccante che possa sostituire Belotti o addirittura affiancarle uno dei nomi che il Torino ha valutato è quello di Pavoletti il Cagliari dalla propria parte vorrebbe Zaza e quindi si sta valutando in questo momento se c'è una possibilità di scambio tra le due società proprio per il passaggio di Pavoletti al Torino e quindi Zaza al Cagliari. Il Torino mette altri nomi in lista per il centrocampo oltre a quello di Kurtic che in questo momento il Torino continua a seguire è stato inserito anche il nome di Diavara della Roma che in questo momento però il club giallo rosso non ha intenzione di cedere ragion per cui la società di Cairo starebbe valutando anche il nome di Lerager dal Genoa. Passando invece all'estero e concludendo con l'estero la trattativa PSG delle Alli si sta complicando perché il presidente del Tottenham, Daniel Levy, non vorrebbe lasciare partire il giocatore per due ragioni la prima è la possibilità che ci siano diversi infortuni nel corso della stagione quindi c'è bisogno di qualcuno che copra in quel ruolo in caso di necessità l'altra ragione è quella che ovviamente tiene conto del Covid-19 perché alcuni giocatori potrebbero essere positivi e quindi non giocheranno e c'è bisogno di qualcuno in più, c'è sempre bisogno di una persona in più Tottenham quindi che prima di poter cedere delle Alli si parla di prestito e ovviamente poi si ragionerà con il Paris Saint Germain per un possibile riscatto prima di poter cedere delle Alli ha bisogno di fare un acquisto per questo resta ancora in lista Eriksen ma non è da escludere anche la possibilità Lingard anche se è molto complicata perché Lingard è vero che ha rinnovato con lo United per partire ma il Manchester United difficilmente cederà il suo calciatore al Tottenham ad una squadra rivale sia in Premier che in Europa League quindi in questo momento il Tottenham prima di poter dare il via libera al passaggio di delle Alli al Paris Saint Germain deve trovare qualcuno che lo sostituisca da questa sessione di mercato per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video nel frattempo io però vi invito a lasciare un like un commento, ad iscrivervi al nostro canale YouTube e attivare le notifiche per rimanere aggiornati su tutti i video di mercato vi invito a lasciare un like alla nostra pagina Facebook a seguirci su Twitter e Instagram e su Telegram dove usciranno ogni giorno articoli, news, indiscrezioni ed esclusive di mercato vi ricordo che alle 19 questa sera ci sarà la live su Twitch per parlare di mercato e di Juventus Napoli io vi lascio, ci vediamo al prossimo video e sempre mia compagnia in attesa del ritorno del nostro carissimo Conte Vlad 85% di sconto per Amazon Prime, Netflix, Apple Music, Spotify e tanto altro ed avere anche 2,50€ a regalo cliccate sul link di Twitter Price in descrizione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.